ti svacchi sul divano con il tuo kinder pinguì in una mano e il telecomando nell'altra, accendi la tv sperando di dimenticarti per un po' dell'illuminismo kantiano e degli studi di funzione e invece ti ritrovi gente che studia matematica e impara libri a memoria. Il cinema e le serie tv sono pieni zeppi di personaggi dalle capacità di apprendimento incredibili o strumenti ipertecnologici che sono in grado di riversare quantità in mani di informazioni nel cervello nel giro di pochi secondi. Oggi ne vediamo qualche esempio e cerchiamo di capire che cosa ci sia di vero e che cosa no. E non potevo non partire da qui. L'idea di imparare il kung fu o il jiu jitsu in pochi secondi grazie ad un aggeggio collegato al cervello sembra qualcosa di assolutamente fantascientifico, impossibile da raggiungere. Un sogno proibito che sarà forse possibile in un futuro remoto. Ma c'è un fondo di verità. Lo strumento più simile a quello che si vede nella famosa scena di Matrix è la stimolazione elettrica. Tecniche come la stimolazione transcranica corrente diretta continua, TDCS, e la stimolazione a rumore casuale, TRNS per esempio, vengono già impiegate per trattare alcune patologie. Ma possono aiutare quando si impara? Possiamo davvero appiccicarci degli elettrodi in testa e imparare qualcosa? Beh, l'ipotesi alla base è quella di modificare l'eccitabilità dei neuroni e di conseguenza rendere il cervello più propenso ad assorbire nuove informazioni. Mettendo un attimo da parte gli aspetti etici, ci sono degli studi scientifici interessanti a riguardo. Per esempio, questi tipi di stimolazione cerebrale sembrano promettenti nel migliorare l'acquisizione di alcune abilità matematiche in bambini con disturbi specifici dell'apprendimento. E un altro utilizzo abbastanza diffuso è nell'acquisizione di capacità motorie, anche negli adulti. Mi raccomando però, non si tratta di certezze assolute. In altri studi gli effetti non sembrano essere poi così significativi, quindi purtroppo non siamo ancora al punto di poterci impiantare un chip nel cervello e parlare sette lingue straniere in venti minuti senza il minimo sforzo. Mi spiace. Matrix dovrà aspettare. Magari un quinto film. Ci manca solo quello. E se esistesse invece una pillola che è in grado di risvegliare un potenziale nascosto, una sostanza in grado di farvi scrivere un intero libro in meno di una settimana o che vi permetta di diventare fenomeni indiscussi al pianoforte o passare degli esami nel giro di tre giorni? Esatto, stiamo parlando di Limitless, il film in cui Bradley Cooper scopre questo NZT, un nootropo che permette di portare il cervello al suo massimo potenziale e velocizzare in modo indefinito i tempi richiesti per l'apprendimento di qualsiasi argomento, oltre che rimuovere ogni sforzo e ogni fatica. Purtroppo no, l'NZT nella vita reale non esiste, ma si possono sfruttare sostanze come la caffeina, altri integratori per migliorare le prestazioni. E ci sono poi droghe che sconsiglio, pericolose, come l'adderal ad esempio. Ma la droga migliore per lo studio ovviamente è comprare il sistema DC, il mio videocorso completo proprio sul metodo di studio. Non so proprio cosa stiate aspettando, adesso esiste pure in quattro versioni, studenti universitari, studenti lavoratori, chi deve preparare concorsi, studenti di scuola, devo dire altro? O invece ci sono personaggi che la memoria non hanno decisamente bisogno di potenziarla, come il coprotagonista della serie Suits, Mike Ross. Io Suits lo adoro. Mike non ha mai fatto un percorso di studi classico in giurisprudenza in diritto, ma nonostante questo riesce a farsi assumere in uno studio di avvocati sfruttando la sua incredibile capacità di ricordare articoli a memoria o qualunque documento, dettagli minimi, cavilli, con una facilità disarmante. Legge qualcosa e se la ricorda parola per parola. La sua si può definire una memoria eidetica, una capacità che esiste davvero in una piccolissima percentuale della popolazione e che è effettivamente in grado di visualizzare mentalmente delle immagini o dei paesaggi con precisione sorprendente. Tempo fa era noto il caso di questo disegnatore che portato con un elicottero sopra le varie città era in grado di riprodurre perfettamente per filo e per segno la piantina con ogni singolo palazzo e ogni singola via. In ogni caso l'idea che viene presentata dalle serie tv è sempre piuttosto romanzata sulla memoria eidetica e sfortunatamente non si tratta di un'abilità che possa essere allenata. O ce l'hai o non ce l'hai. Esistono però dei modi per sfruttare meglio la propria memoria che non vuol dire memorizzare interi esami utilizzando il tanto famigerato palazzo della memoria ma le tecniche di memoria possono decisamente far parte di un metodo di studio efficace solo che devono avere il ruolo per cui sono state pensate cioè memorizzare i dettagli. E se proprio volete sapere tutto quello che c'è da sapere sulle tecniche di memoria c'è Mnemonica il videocorso che ho realizzato insieme al campionaccio mondiale di memoria Andrea Muzzi e al più grande mnemonista in circolazione Vanni De Luca. Un altro personaggio con delle spiccate capacità di apprendimento nel mondo dei film è senza dubbio quello interpretato da Matt Damon in Will Hunting Genio Ribelle ragazzo che non è soltanto in grado di memorizzare enormi quantità di dati in tempi ridicoli ma ha pure un'intelligenza straordinaria a tutto tondo soprattutto per quanto riguarda la matematica. Il tema dell'intelligenza è un evergreen del mio canale la gente sembra ossessionata dal capire come funziona e soprattutto se si può aumentare. Purtroppo come ho già detto in un video dedicato interamente a questo la letteratura scientifica per il momento non vede evidenze solide dell'efficacia dei brain games e di programmi di allenamento vari che hanno lo scopo di rendere le persone più intelligenti. Il ruolo della genetica e come questa interagisce con i fattori ambientali nel determinare le abilità mentali di una persona sono dei temi difficili da affrontare su cui è difficile trovare delle risposte definitive ma di sicuro si tratta di qualcosa che tornerà anche in futuri video. Su questo non c'è dubbio. C'è poi chi la memoria unita alla capacità di calcolo la usa per andare nei casino e farsi un sacco di soldi e sto parlando naturalmente di un film che mi ha sempre molto divertito che è 21 con Kevin Spacey tra i suoi protagonisti principali in cui un gruppo di matematici e cervelloni vari si riunisce impara a contare le carte al blackjack utilizza anche delle tecniche di memoria per memorizzare tutti i vari punteggi e i vari conteggi e poi va nei casino di tutta america a saccheggiare e prendersi palate di soldi. Tre cose interessanti su questo film. La prima è che naturalmente si tratta di una storia vera o comunque tratto da una storia vera e quindi sì esistono persone al mondo e sono esistite che utilizzano questi stratagemmi per contare le carte al blackjack e fare anche parecchi soldi anche oggi in cui dei nuovi sistemi di sicurezza permettono di mescolare i mazzi al casino e quindi rendere più difficile la vita dei nostri contatori e memorizzatori. Ma la seconda cosa interessante è che effettivamente la memoria quando si tratta di conteggio delle carte al blackjack è importante ma non è la cosa più importante e le tecniche di memoria possono essere utilizzate in quel campo per imparare certe regole certe tabelle per il conteggio per l'appunto ma in realtà durante il gioco non c'è bisogno di una grandissima capacità mnemonica quanto piuttosto della capacità di giocare contemporaneamente contare rimanendo tranquilli e posati. La terza cosa interessante è la morale del film che dice che se utilizzate le vostre capacità in maniera sbagliata finite pestati fuori da un casino e questi erano i film le serie tv che mi sono venuti in mente così ma voglio sentire voi cosa avete da suggerirmi avete visto personaggi del mondo dello schermo grande piccolo che sia imparare in maniera esagerata scrivetemelo qui sotto e raccontatemi quali sono i vostri personaggi preferiti. In ogni caso anche quando guardiamo la tv possiamo trarre qualche spunto interessante per esplorare nuovi orizzonti legati allo studio e all'acquisizione di informazioni e ora se non vi dispiace vado a giocare a blackjack. Sempre tener conto del cambio di variabili molte persone non avrebbero cambiato non so per paranoia paura emotività ma il signor Campbell ha messo da parte le emozioni.